Che chiamavamo a fare? No, è un po' con coca Ok Si Si Molto panne Vamo a prendere un pochino di più per che sepan che il panne facendo come si chiama la che sta a la tele cocinando? Manu Votana Manu Votana e lo incliniamo per che non abbia spuma Si, non come Fabio a ieri Non come il da Rocian E si fa solo con coca, non con pepsi? No, con pepsi Ah Ieri è una merda proprio Ah E Ah Ah E ora da un trago No Lo che è importante è che è un è un vaso Colectivo È un vaso per tutta la comunità meno per lei che non cuore Anche vino aveva mucha miera Ah no Un po' più fuori Ah, perché? Stava medio... Fabio Stava cambiando 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 Il vaso per mettere Il vaso per mettere Collettivamente E' il cordovan E' il cordovan E' il cordovan E' il cordovan In cordovan Con musica La fermi Il cordovan Però Mi sono sancolizzato Mi avverrò anche a Buxelles Prosti Grazie.